buongiorno allora pollicione se volete iscrivervi vi ringrazio attivate la campanina per ricevere le notifiche e chi vuole condividere i miei video sa che ha sempre la mia gratitudine bene è successo quello che potevamo anche ipotizzare in merito al bonus 200 euro ci devo tornare su un attimo poi voglio parlare di un'altra cosa cioè del nuovo decreto ho messo potete controllare sotto il video di ieri in primo piano il commento del nostro bravo fabrizio io però non so se compariranno eventuali indicazioni di lavorazioni perché di fatto l'ho detto il bonus 200 euro non viene lavorato dall'inps l'inps riceverà soltanto l'avviso da trasmettere poi a post italiane e quindi io non so neanche dirvi se sono prelevabili o no perché l'inps all'inizio ha detto di no poi ha detto di sì poi boh e quindi visto che comunque il prelievo dipende da post italiane dovete verificare voi provare voi e sapete che con l'assegno unico è mezzo disastro bene potrebbero arrivare oggi potrebbero arrivare domani potrebbero arrivare sabato o potrebbero arrivare anche il primo agosto che è vero che sforerebbe la data indicata dall'inps che ha indicato come fine luglio il pagamento del bonus 200 euro ma diciamo visto che è il 31 domenica diamogli la buona basta che gli diano ecco questi soldi non so se comparirà qualche avviso qualche nota se vi li ritroverete direttamente sulla carta se comparirà qualche voce nella schermata fascicolo del fascicolo rdc o addirittura nella schermata pagamenti del vostro fascicolo previdenziale personale non si sa niente si sa che devono essere pagati e quindi l'unico modo è controllare e aspettare controllare se qualcuno vede o una lavorazione cioè una lavorazione l'indicazione del pagamento oppure si trova 200 euro in più sulla carta avvisi gli altri per far sapere che effettivamente sono cominciati i flussi di pagamento del bonus speriamo che lo facciano in fretta perché io domani metterò ancora un piccolo video di un paio di minuti sotto cui mi inviterò a fare la stessa cosa che sto dicendo adesso cioè avvisare se compaiono questi pagamenti e poi vi farò un video saluti e noi ci risentiremo per le vostre pratiche dopo il 10 presumibilmente l'11 anche se io comunque rimarrò a casa mia per dire e per confermare bravo a bravo yuk sarò a Eretz Israel fino alla fine di agosto perché ho anche del lavoro da fare da preparare delle cose poi tornerò in Italia una settimana e poi ve l'ho detto farò avanti indietro perché ho dei seminari da tenere qui e quando sarò che tenere i seminari magari comparirò anche in video sperando che il problema mio di sfogli allergici a causa delle medicine si sia risolto adesso mi stanno dando qualcosa per antagonizzare il problema comunque non vi lascio da soli non vi lascio da soli anche perché settembre sarà un mese impegnativo perché ci sono da preparare le elezioni e purtroppo l'unico partito che attualmente ha un programma è quello della melonia tutti gli altri mi sembra che siano andando un po come si suol dire a ap apene di apene di canide cioè come va va come capita capita ma non ci siano idee molto chiare anzi la vera mia preoccupazione che mentre a destra sembra aver trovato un accordo a sinistra siamo se vengo anch'io no tu no a livelli astronomici se poi qualcuno vuole dirmi che calenda e renzi sono di centro sinistra è meglio che si faccia veramente un esame e colleghi il cervello al culo perché soltanto uno che non sta bene può credere che i due sono di centro sinistra o di centro quelli sono di destra e fanno i pesci in barile ecco adesso però fatemi dire due cose quante volte con quante volte in questi giorni a fronte degli annunci anche da parte di alcuni canali strombazzati rinnovo del bonus da 200 euro bonus 200 euro fino a dicembre arriverà questo arriverà quello e poi ieri mi risaltano fuori le de guida partorite non solo dal governo ma dal governo con l'appoggio dei sindacati perché landini che poi se ne esce dicendo e ma se c'era ancora il governo draghi certe cose caro landini c'hai la faccia come il posteriore perché quello adesso ti accorgi che c'era il problema del salario minimo adesso che il governo non c'è quando è un problema che va avanti da anni in italia ma tu per anni non hai fatto una sega in quel senso adesso che non c'è più il governo dei peggiori ma bisognava tenerlo perché la situazione adesso lo dici complimenti intanto ieri cosa che obiettivamente ha fatto star male anche il nostro bravo alessandro mister lull stanno partorendo un decreto aiuti bis che a me fa caponare la pelle allora prima erano solo 3 miliardi poi sono diventati 13 12 dipende dal quotidiano che che guardate è un ormai sono a livello di attendibilità è un po come leggere tutto sport sul calcio mercato della juve compra tutto il mondo e poi la metà di quello che compra non c'erano in testa soltanto i giornalisti tutto sport bene allora quello che sembrano aver partorito è niente proroga del bonus un piccolo taglio alcuneo fiscale che comporterebbe un aumento ridicolo degli stipendi e un'anticipazione della perequazione delle pensioni ora ragazzi si tratta di aumenti che sono di poche decine di euro al lordo quindi al netto sono aumenti ridicoli ridicoli che non incideranno in nessun modo con il continuo e sistematico aumento dei prezzi di generi alimentari aumento verificabili da chiunque di voi vado in un qualsiasi centro commerciale non parliamo delle esigenze a dettaglio che che sono quelli che prendono più bastonate ancora l'aumento è costante ma ormai non è più costante di pochi centesimi è costante di 10 o 20 centesimi alla volta l'altra idea quella di fare un palmiere un calmiere scusatemi un palmiere un calmiere sui prezzi dei generi alimentari di largo consumo sembra che sia stata portata e sostanzialmente non abbia ricevuto risposta il governo ha fatto orecchie da mercante quando questo è effettivamente un problema perché se continua aumentare il pane continua aumentare l'olio continua aumentare la pasta continua aumentare il riso tra un po' anche farsi una spaghettata sarà una cosa di lusso e la realtà è questa bisognerà andare a fare la spesa o anche negli a discount sarà il problema c'è fare la spesa cercando l'offerta speciale del momento altrimenti evitare aspettare cioè vi rendete conto che questa cosa è disastrosa ma non solo con questa bella manovra questo decreto di aiuti bis non si aiutano assolutamente come fa notare alessandro i più fragili non si aiutano i fragili non si aiutano le persone in difficoltà non c'è non si aiutano le persone più deboli non si aiutano le persone che economicamente sono in una situazione drammatica quindi non è soltanto una questione di rdc qui è questione di gente che non ha neanche le radici che non sa come mangiare che non sa come fare la spesa minima che non sa proprio come sopravvivere con questi costi e la cifra che dalle radici quella media 500 euro ormai anche questa non è una cifra di sopravvivenza non parliamo della cifra che riguarda i pensionati con invalidità parziale che è sempre ferma lì a questo si agganciano diciamo così i grandissimi disagi nel settore sanità dove la scarsità di medici sta producendo danni a valanga e ve lo dico per una prova diretta uno dei modi per valutare i problemi pressori è la verifica della pressione intraoculare volevo farla prima di partire mi recco dal medico che ho come referente qua e lui mi fa sapere che il primo posto libero in lombardia quindi la regione d'eccellenza dal punto di vista sanitario lo sanno tutti tranne quel mentecatto di deluca che sta su un altro pianeta lo sanno tutti bene nella regione d'eccellenza il primo posto disponibile per questo esame è il 27 ottobre del 2023 lo farò nel mio paese due giorni dopo che torno certo se avessi pagato l'avrei fatto quasi subito ma sinceramente mi gira il cazzo perché il mio paese lo farò due giorni dopo che ritorno con la copertura assicurativa delle nostre mutue scusatemi ma c'è una cosa che non va nel sistema proprio ecco e di tutto questo non c'è soluzione quel povero disgraziato che doveva che diceva bisogna bisogna mettere in mano la sanità potenziarla non ha fatto un cazzo in questi due anni e mezzo anzi l'unica cosa che si è potuto fare bene è tagliare ulteriormente la sanità ma io voglio tornare sul discorso del decreto sostegni bis quando io insisto a dire aspettiamo di vedere una cosa in gazzetta ufficiale non lo dico perché voglio fare la cassandra omerica no ma perché penso che in termini di esperienza sia difficile credere alle parole di un governo come quell'italiano con gente che adesso tira ancora fuori la barzelletta dei mille euro per le pensioni con gente che straparla di rilancio dell'economia non si sa bene come di assegni di solidarietà che sono detti a parole con gente che modifica addirittura il proprio simbolo come ha fatto il grullo fiorentino come se non sapessimo che dietro c'è lui con ammucchiate vomitevoli perché scusatemi se ve lo dico io sono sempre stato uno che ha rispettato l'abbonino ma che adesso l'abbonino si metta con calenda allora il rispetto il mio rispetto per l'abbonino è finito nel cestino dell'indifferenziata ti metti con un neoliberista che quando è stato ministro ha combinato solo casini perché con il tuo partito il suo separati non arrivati da nessuna parte io penso che in questo momento pannella si stia ribaltando nel luogo in cui sta riposando ti sei venduta come si sono venduti tante altre persone in primis il bibitaro l'osservazione che ha fatto ieri masala è giusta qui si va a votare malefacce sono sempre le stesse gli schieramenti saranno sempre gli stessi e tra l'altro se non ci si dà una svegliata mentre ve l'ho detto a destra hanno trovato un accordo chi piglia più voti fa il premier quindi la meloni a sinistra ci sono i veti incrociati e a sinistra sarà una crocchio terrificante per potersi io voglio questo voglio quello con il risultato di avere un alto governo stile prodi che nel momento in cui uno gira le balle esce fa crollare tutta la casa e ragazzi io cosa vi devo dire che questi qui sono faranno qualcosa di meglio no no la meloni sta sfruttando il fatto che era l'opposizione quindi le colpe non le si dà anche se non ha fatto mai una sega mai fatto proposte serie dal punto di vista della dell'applicazione pratica e gli altri pagano il fatto di essere governo di non avere letteralmente un programma quindi stiamo attenti ve l'ho detto se io devo spendere sarò qua il 25 settembre penso di sì comunque io non ho problemi a dire che andrò a votare per i 5 stelle di conte turandomi non solo il naso mettendo la maschera antigas perché ve l'ho detto secondo me conte non ha i coglioni non ha le palle servirebbe un leader ultra cazzuto per rimettere insieme il partito e invece lui non è così però piuttosto che votare il resto preferisco votare i 5 stelle e non è un endorsement dicendovi votate voi votate in termini utilitaristici perché il mio voto è così io voto l'unico partito che bene o male ancora adesso sta cercando di sostenere l'unica forma di welfare che c'è in italia l'unica tutti gli altri non lo fanno o meglio vorrebbero introdurre la loro forma che però a me puzza molto di un ritorno a rei con cifre un poco superiori ma che di fatto si è visto re è stato un mezzo fallimento perché posti di lavoro non ne ha trovati si è demandato agli assistenti sociali un lavoro che non era loro e ribadisco con gli assistenti sociali davvero un gran culo se becchi quello bravo se becchi lo staff bravo il gruppo di assistenti sociali bravi ti fanno anche un bel lavoro ti danno veramente una mano ma se becchi quelli della vecchia scuola o gente che lì perché ha fallito da tutte le altre parti ha trovato il buco lì allora se veramente nelle pesti per farmi capire la qualità e poi chiudo perché mi ha rotto le scatole abbastanza dei programmi politici di questa gente e soprattutto dei personaggi che hanno dietro perché allora io non so se sia un canale in quel senso libero uno vedo uno show di un canale che è su youtube di motivati di motivatori e sento briatore che parla quando io mi alzo la mattina so che ci sono 1200 persone i suoi dipendenti che sanno che avranno pagheranno il mutuo grazie al mio stipendio bla 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 in america uno che si che cade si rialza lo considerano un genio a parte che è una stronzata abriato se tu vai in america con tutti i casini e le scatole cinesi che hai dietro con la tua il col tuo livello di diciamo così evasione fiscale per gli americani su queste cose non ci vanno leggeri non esiste non peraltro esiste proprio una legge usata per combattere la criminalità criminalità organizzata attraverso l'evasione fiscale che la legge rico non ci vanno leggeri uno come te in america non lo considerano genio tu stavi nello stesso posto in cui sta amado a a tenervi compagnia una cella vicino all'altra perché con tutte le scatole cinesi e le vacate che hai fatto ti davano 40 anni perché gli aiuti fiscali li considerano peggio momenti dei reatti che colpiscono la persona anzi togliete pure momenti e poi cosa che mi fa incazzare ancora di più dico se avrebbe gente seria gente che porta avanti dei progetti ebbene arriva lo short di paragone che ci fa sapere che f ball è passata dalla lega a italexit ora io contro la signorina è un trans è una transessuale lo dico abbastanza famosa non ho niente non me ne frega proprio niente però se uno mi dice vladimir luxuria delle idee politiche ce le aveva ce le ha ancora aveva delle idee ed erano indirizzate determinati obiettivi se questa come idea è far sapere alla gente che lei dorme nuda perché così gli possono baciare il diretano ecco mi sembra che siamo a livello del non neanche del circo perché nel circo c'è dignità qui siamo a livello della spazzatura e questo qui dovrebbe essere uno dei partiti antagonisti antisistema o se lo volete votare votatelo però rendetevi conto che siccome parola non ha un programma finora soltanto detto peste con di tutti ma di cosa vuol fare effettivamente lui non si sa ecco ricordatevi che questo potrebbe portare in parlamento una persona che si preoccupa che gli bacino le chiappe fate un po voi pensate votati in modo utilitaristico ciao a tutti ci sentiamo domani sperando che ci siano belle notizie per il bonus ciao